Siamo orgogliosi di condividere il rinnovo per altri quattro anni con la FIGIH, siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto nel rispetto del tricolore della nostra bandiera, egregiamente riportato sulla vostra divisa ufficiale ed egregiamente riportato sulla tuta. Quindi orgogliosi di portare la bandiera italiana e riportare la FIGIH ad altissimi livelli, sempre con Givova. E poi Givova, insomma da qualche anno, ma promette di esserlo ancora di più vicino non soltanto alla federazione e alla maglia azzurra, ma anche al movimento. Sì, abbiamo portato avanti e abbiamo condiviso col Presidente delle idee fortemente innovative, perché pensiamo che la maturità oggi è arrivata ed è condivisa sia da parte nostra che con la FIGIH. Quindi è giusto che tutte le società che fanno parte della vostra federazione prendano questi benefici per nome e conto della FIGIH e questi benefici porteranno un rivoluzionamento strutturale con il nostro portale Grandi Forniture FIGIH. Sì, siamo al primo rinnovo per questo secondo quadriennio. È stata un'esperienza molto costruttiva ed importante per noi. È cresciuta questa partnership sia dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista delle relazioni, dei rapporti umani e anche dal punto di vista del design, perché abbiamo ora presentato due realizzazioni di prodotto importanti, la maglia ufficiale chiaramente e un prodotto tecnico che sarà lanciato dal prossimo autunno. È una partnership che ci riempie di soddisfazione, che ci riempie di orgoglio e che vogliamo portare avanti insieme all'azienda per tutto il quadriennio con il coinvolgimento anche del movimento. Anche perché è un'azienda, la Givova, che promette di colmare un vuoto storicamente creatosi all'interno dei vari brand sportivi. C'è un'attenzione particolare per la palla a mano e l'idea è anche di studiare un prodotto ad hoc per la palla a mano che poi sarà assolutamente ben gradito da tutto il movimento. Sì, perché in Italia, sicuramente non forse, è il primo esperimento di questo tipo, di un'azienda che si occupa in maniera specifica attraverso la federazione della palla a mano e del prodotto per la palla a mano. Chiaramente all'estero ci sono tanti esempi, tanti marchi storici che sono molto conosciuti dappertutto all'interno del movimento della palla a mano però con Givova stiamo facendo questa prima prova in Italia, sta andando molto bene e credo che la lungimiranza del Presidente Agampora nello scommettere su una federazione, su uno sport emergente come la palla a mano sicuramente porterà i suoi frutti. In questo rinnovo, in questo quadriennio che ci siamo dati come obiettivo è soprattutto questo, attenzionare le specifiche dei prodotti consultandoci in primis con i direttori tecnici e poi con i giocatori per le esigenze di ogni giocatore delle squadre nazionali e questo comporta chiaramente un'innovazione che andiamo a portare come brand italiano come abbiamo detto fino ad ora, un binomio importante in cui crediamo tantissimo, stiamo lavorando affinché migliori sempre di più con delle linee dedicate, esclusive, solo e esclusivamente per la palla a mano. Ecco sì, l'attenzione per i club è qualcosa di nuovo che da qualche tempo oggi Givova sta portando avanti con sempre maggiore attenzione. Esatto, anche oltre a vestire la nazionale l'obiettivo è quello di supportare e dare attenzione anche a tutti i club italiani sia quelli di Serie A e poi chiaramente tutti i campionati andare a intercettare e dare la possibilità a tutti di poter vestire il prodotto Givova chiaramente testato dalla federazione perché comunque se c'è il feedback positivo dei giocatori della nazionale siamo tranquilli che il prodotto è ottimo.